bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia ci siamo entrati così con uno schiocco di dita direttamente nella season 4 di forte una season davvero molto particolare perché per la prima volta comprenderà quasi al 100 per cento tutto l'universo marvel quindi una collaborazione duratura che durerà ben 70 e passa giorni o qualcosina in più adesso non mi ricordo bene e che ha cambiato molte cose nel gioco innanzitutto voglio chiedervi subito vi piace non vi piace scrivetemelo qua sotto nel video di oggi parleremo di un sacco di cose quindi voglio solo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e sono le nuove location in mappa la mappa è rimasta bene o male quella che conoscevamo ma ci sono delle novità la prima ragazzi è proprio questa collina quella che c'è praticamente sopra l'autorità dove ci sono dei giganti robot un po' distrutti messi lì non abbiamo ben chiaro il perché ci siano vi ricordo che saltando sopra le mani di ognuno di questi potrete spiccare il volo e ottenere tra l'altro anche una legacy ci sono ovviamente delle varie armi sparsa in giro e ci stiamo chiedendo ovviamente se per caso nel corso della season qualcuno si prenda la briga di sistemarli ed eventualmente di farli tornare funzionali un'altra grandissima modifica arriva invece in una delle location storiche presenti da sempre su fortnite mi rivolgo a parco pacifico che non si chiama più così si richiama castello di doom non mi ricordo adesso bene il nome che appunto stato trasformato come location dedicata al dottor doom la casa che vedete lì sullo sfondo è la sua il suo punto di spawn lo troverete sempre lì vi ricordo anche nelle sfide killarlo tre volte per ottenere i 50.000 punti esperienza e i suoi due potenziamenti mitici e per arrivare poi ad un'altra curiosità davvero interessante quei jet quegli aeroplani Quincy jet se non ricordo male il nome che non appena partiamo la nostra partita si dividono e scendono in mappa potete raggiungerli ma attenzione perché ci sono gli scagnozzi in giro e non solo troverete anche i droni i vecchi droni presenti in season 9 se non ricordo male una volta che li distruggete otterrete del loot interessante quindi delle modifiche ancora non esagerate ma non vi preoccupate perché arriverà sicuramente tanto tanto altro e andiamo avanti al prossimo argomento di oggi perché due secondi per farvi vedere anche l'ombrellino che vincerete non appena conquisterete la victory royale si chiama might marvel brella ed è veramente molto bello lo stile è perfetto azzeccatissimo questo fulmine rosso che lo taglia a metà e questa colorazione nera sull'acciaio fa veramente una gran scena quindi in bocca al lupo a tutti voi per la vostra prima vittoria in questa season 4 del capitolo 2 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché una delle grandissime novità è ovviamente tutto il tutto il compartimento della pesca innanzitutto abbiamo la pro fishing road che finalmente fa il suo ingresso nella stagione vi ricordo che se non la trovate credo che non possiate trovarla per ottenerla dovete potenziare la vostra canna da pesca che cosa vi dà la possibilità di pescare con la fishing road dei pesci veramente incredibili e si ragazzi perché hanno aggiunto un totale di 39 pesci in questa season e ognuno fa qualcosa di diverso ne vediamo molto velocemente alcuni il più importante ovviamente il flopper mida il midas flopper se lo pescate automaticamente non appena lo consumate tutto l'inventario tutto l'inventario vi diventa leggendario è il pesce più op lo spawn rate è veramente bassissimo quindi molto difficile raga se lo trovate clippatelo mandatelo su instagram mandatemelo perché lo voglio troppo vedere ma abbiamo anche il vendetta flopper che fa 40 di danno ai nemici o abbiamo lo spicy fish che una volta che lo consumate vi dà mi sembra 60 secondi di velocità come quando prendete il peperoncino abbiamo l'op flopper che è davvero molto carino perché una volta consumato vi fa andare con la gravità abbassata quindi potete saltare molto più in alto e muovervi molto più lontano il jellyfish che è quello che vi darà dello scudo lo shield fish che ve ne darà ancora di più e uno dei pesci più particolari invece è il thermal fish come vedete è un pesce leggendario è ovviamente pescabile solo con la pro fishing road voglio farvi vedere che cavolo fa il thermal fish mamma mia come vedete ragazzi non appena lo consumate tutta la visuale del gioco è come se fosse un mirino termico il che vuol dire che vedrete molto più nitidamente gli avversari colorati in bianco sulle basi nere quindi davvero op come pesce pescatelo provatelo perché è davvero divertentissimo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per tutti i ragazzi che montano sul proprio computer una scheda grafica rtx hanno implementato ragazzi una funzionalità che vi permette di avere una migliore visuale di gioco abilitando la direx 12 quindi troverete tutto nelle impostazioni del del gioco normalmente e vi faccio vedere alcune immagini come vedete i colori sono brillantissimi le ombre sono davvero molto molto belle e soprattutto molto realistiche vale davvero la pena provare questa modalità se non avete esigenza di giocare proprio così da pro ma volete godervi tutto il comparto grafico che ci regala fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbada bam è stato da poco decriptato il bundle di questa season ed è come avete visto ovviamente silver surfer uno dei degli eroi marvel concedetemi perché io non sono molto afferrato ma mi sembra proprio i fantastici 4 più silver surfer quindi penso ovviamente che faccia il suo caso sarà molto probabilmente a pagamento io credo che parliamo di 19 e 99 e come vedete nel set oltre alla skin è presente anche la copertura è presente il backpack il piccone e anche il deltaplano qua vediamo proprio nel game le varie immagini ma ovviamente non mi limito solamente a farvi vedere delle immagini voglio già farvelo vedere in game e quindi buona visione davvero molto molto bello ragazzi come set devo dire che la skin è veramente pulitissima e merita davvero un sacco e prima di salutarvi volevo ricordarvi anche che in questa season ci sarà presente una grandissima storyline quella ovviamente classica del bene contro il male quindi gli avenger contro galactus il divoratore di pianeti che cercherà in tutti i modi di distruggere la mappa che conosciamo tra l'altro se state molto attenti e guardate il cielo dovrebbe essere già presente quel puntino luminoso che vi sto facendo vedere che è proprio l'indicazione dell'arrivo di galactus dall'universo insomma ragazzi questa season io credo che non ci lascerà delusi anche perché a parte alcune cose che sono ancora un attimo così ma del resto lo erano anche nel precedente capitolo non hanno fatto un brutto lavoro la trovo abbastanza bilanciata per il momento mi piace è un peccato nonostante abbiano riaggiunto delle armi mitiche storiche tipo il combat che purtroppo abbia subito un nerf ma ci sono davvero tante cose con cui creare un gran gameplay insomma ragazzi per oggi io vi fermo qua con le news vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao